Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro una valanga di casi che ho risolto con la mia equip l'anno scorso di impianti basali sotto perostei. Parliamo di quel tipo di impianti come vedi che vanno inseriti sotto le gengive ad abbracciare l'osso che vengono fatti su misura. Quello che vedi in verde qua è il design dell'impianto che è stato posizionato, in rosa la gengiva che lo ricopre, come vedi è un impianto avvitato, i punti rossi sono le zone dove vengono poi avvitate le vite da osteosintesis. Come dico sempre fai attenzione ai chirurghi che mettono questi tipi di impianti senza essere avvitati perché quelli poi si vanno a perdere dopo qualche tempo. Questo è un caso di atrofia monolaterale dove abbiamo posizionato impianti convenzionali in questa zona anteriore, più un impianto sotto periostale e qui dietro in questa zona abbiamo inserito un impianto pterigoideo. Questo reggerà il blocco di denti su questa zona gravemente atrofica. Come vedi l'osso cristale qui non c'era più, abbiamo creato un impianto su misura. vada avanti tra le decine e decine e decine di casi che abbiamo risolto l'anno scorso, cerca sempre chirurghi che hanno fatto tanti interventi, digli di aprire la TAC 3D e mostrarteli. Questo è un caso invece dove è stata messa tutta l'arcata superiore, completamente atrofica, come vedi osso cristale qua non ce n'era più, tolgo la gengiva così si vede ancora meglio. Abbiamo dovuto qua posizionare un impianto a griglia sotto periostale su tutta l'arcata, mantenuto alcuni picchi di osso qua nella parte anteriore. Vado avanti, questo invece è un caso dove i denti anteriori potevano ancora essere mantenuti. Penso a quanti dentisti cercheranno di rubare queste immagini da youtube, non hanno mai visto così tanti casi certi chirurghi tutti insieme. Qua abbiamo creato due impianti basali sotto periostali laterali con giuntamente qua a impianto pterigoideo, qua si vede nel modello la zona dove si sarebbe inserito poi dopo durante la chirurgia all'impianto sotto periostale. Attenzione alcuni qua ti avrebbero proposto di togliere tutti i denti sani davanti e fare l'all on for, non è il caso. Andiamo avanti, ti faccio vedere un caso di mandibola, i casi di mandibola sono molto interessanti, sono quelli che in genere preferisco. In viola puoi vedere l'osso che era rimasto molto atrofico, ti faccio vedere anche, vediamo se riesco qua a mandare in trasparenza l'osso, vedi il nervo che passava dentro alla mandibola, non c'era più osso qua per mettere gli impianti convenzionali. In questo caso abbiamo progettato di mettere qua davanti, dove vedi questi disegni, quattro impianti dentali convenzionali, posteriormente aiutati da due impianti sotto periostali o yuksta osei, come li si voglia chiamare, che poi con una barra va a unire assieme agli impianti convenzionali gli impianti sotto periostali. Qua vedi un altro caso sempre di griglia completa ma separata nella parte centrale. Qua abbiamo optato per posizionare poi nella parte anteriore nel canale naso palatino qua un altro impianto che avrebbe dato sostegno e ancoraggio agli impianti sotto periostali con una barra che li unisce, più dietro due impianti terigoidei in queste zone posteriori, qua dietro sempre per ancorare come se fossero un ancora agli impianti sotto periostali. Ripeto, se ti stai orientando dove fare gli interventi, digli di aprirti le TAC 3D e mostrarti i casi, perché sono molti quelli che riescono a parlare, sono pochi quelli che riescono a dimostrare con la TAC tridimensionale quanti casi ci hanno sull'archivio. Noi ne abbiamo centinaia di casi in archivio, quindi chiedi sempre di vedere i numeri perché l'equip che ti opera deve averne fatti tanti, non deve essere un chirurgo che viene, che viaggia per tutta Italia, te ne fa un po' qui, un po' là, due qua, due là, perché non è neanche detto poi che in caso di problemi abbia il tempo di risolvere. Questo che vedi è un altro caso di griglia sotto periostale, anche qua abbiamo ancorato l'impianto alla piramide, alla parte posteriore qua dello zigomo, anzi la parte anteriore dello zigomo con tre viti di ancoraggio andremo a fissare qua nel processo zigomatico sia su un lato che sull'altro l'impianto sotto periostale e nella parte subito laterale alla cavità nasale. Questo è un altro pilastro molto importante, il pilastro nasale che permette di scaricare le forze in maniera molto sicura. Questo è un caso, un altro di mandibola, due impianti qua nella parte anteriore dove abbiamo disegnato sulla mandibola, abbiamo lasciato lo spazio per far fuori uscire il nervo mandibolare, era importantissimo qua farlo uscire e evitare di tranciarlo. La parte posteriore qua abbiamo posizionato due impianti basali sotto periostei che sono anch'essi poi fissati nella parte interna della mandibola. Ci sono tanti pazienti che hanno questo tipo di atrofia qua dietro e gli propongono l'holonfor con i cantileveri. I cantileveri sono praticamente i denti non sostenuti da impianti, ecco cose che sono. Questo è il nervo che passa a filo dentro alla mandibola, in questo modo col computer noi possiamo progettare dove devono passare esattamente gli impianti e soprattutto le viti da osteosintesi, onde evitare di andare a tranciare il nervo. Possiamo calcolare la distanza esatta dal nervo mandibolare, cosa che in passato era impossibile fare con la tecnica analogica. Un altro caso simile al precedente dove abbiamo posizionato anche qui due impianti basali sotto periostali nella zona posteriore. Abbiamo posizionato due impianti qua nella sinfisi mentoniera, la parte anteriore e vedi il nervo che passa dentro al ramo mandibolare che è ben distante poi dalle zone di avvitamento degli impianti sotto periostali. Quanti chirurghi ti hanno fatto vedere così tanti casi. Te ne faccio vedere un altro. Questo è stato molto interessante perché abbiamo risolto delle zone dove era completamente atrofico l'osso qua nella parte anteriore con degli impianti sotto periostali fissati sull'osso. Queste erano le selle, le zone dove c'erano un tempo le radici degli incisivi laterali. Qua era ormai impossibile andare a ricostruire l'osso, andare a mettere impianti, non c'era più lo spessore. Abbiamo optato qua per appunto l'impianto basale sotto periostale che fissato al osso residuo ci ha permesso poi di mettere i denti. Un altro caso di atrofia grave estrema. Questo qui era un impianto messo su un paziente che non aveva mai avuto i denti, non erano cresciuti. Quindi c'era già di per sé un riassorbimento esagerato di questo osso. Abbiamo fissato gli impianti basali sotto periostali alla zona corticale del ramo mandibolare. Questa è la progettazione di come sono stati posizionate le viti da osteosintesi. La parte interna abbiamo così potuto assieme a due impianti nella parte anteriore, a quattro impianti anzi nella parte anteriore. Abbiamo fissato poi tutta la barra. Qua vedi le zone in nero dove sono state programmate le zone di inserzione degli impianti convenzionali che poi si sarebbero uniti assieme alla mandibola. Qua vedi un altro impianto messo su un caso gravissimo di atrofia. I denti dovrebbero stare qua davanti. Ha perduto i denti, le radici e tutto l'osso che manteneva le radici. Siamo arrivati a livello del palato. Nota qua come questa grave atrofia qua era impossibile mettere anche impianti zigomatici. Non c'era più chance qua. L'ultima chance è stata rappresentata da una chirurgia ultra specialistica di impianti sotto periostali o juxtaossi avvitati. Ok, fai attenzione, ripeto, a chi fa gli impianti non avvitati senza le viti da osteosintesi. Stai buttando i soldi. Butti i soldi e te ne accorgerai dopo qualche anno quando si inizierà a muovere l'impianto. Questo è un altro caso con impianti basali sotto periostali. In questo caso non c'era più osso neanche nella parte anteriore. Qua abbiamo optato per il posizionamento di tre impianti separati. Nota che in mandibola gli impianti sotto periostali non devono mai essere tutti uniti perché poi creano discomfort al paziente che sente delle tensioni soprattutto con la tecnica press fit. Evitiamo di tranciare tutti i fasci muscolari come con la tecnica press fit e andiamo a distribuire meglio le tensioni oltre che poi con l'unione con la barra su questi impianti separati otterremo comunque la ritenzione secondaria data appunto dalla barra. Andiamo veloce ti faccio vedere altri casi sembrano ripetitivi ma ripeto ne abbiamo centinaia di casi come questi risolti. Sempre gravi atrofie del macellare con osso molto sottile. Tieni conto che la tecnica originale qua prevede che si creino gli slot per il posizionamento dei multi unit abatment che sono questi snodi sui quali poi verranno avvitati gli impianti. Fa attenzione se l'impianto non passa dentro all'osso come vedi qua dopo un po' la gengiva si ritira. Si ritira fa vedere l'impianto e poi devi togliere l'impianto. Quindi evita le tecniche e questo è un brevetto tra l'altro europeo. Quindi sono pochi gli impianti al mondo che possono vantare questa tecnica. Questa è un'altra grave atrofia della mascella superiore. Qualcuno avrebbe risolto sfasciando il seno mascellare a destra e a sinistra per mettere impianti zigomatici. Siamo stati molto più conservativi abbracciando il poco osso atrofico residuo con un impianto in titanio fatto su misura fissato con viti da osteosintesi. Un altro caso simile e poi andiamo avanti un altro ancora. Questo l'abbiamo fissato sul palato nella nella sutura palatale palatina maggiore che ci permette di avere uno scarico di forze veramente d'alta sicurezza. Sopra abbiamo qua fissato al pilastro nasale l'impianto e al pilastro zigomatico nella parete anteriore dello zigomo. Questo è uno dei casi più estremi che ho visto in vita mia devo dire. Questo il paziente aveva fatto rialzi di seno macellare ricostruito l'osso. L'osso è andato in infezione finito al dipartimento maxilofaciale in sardegna tra l'altro dove hanno dovuto togliere tutto. Gli impianti li aveva fatti in serbia. Dopodiché venuto da noi al policlinico di bergamo abbiamo performato questo intervento. Il palato si muoveva quanto era sottile. Guarda dove è andata a finire l'impianto. Il naso è qui avanti e tutta la parte che sosteneva il palato e il labbro si è riassorbita verso dietro. Questa è un'atrofia estrema qua. Mai 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 sfido chiunque al mondo qua avrebbe potuto rimettere i denti fissi con impianti per esempio zigomatici. Non c'era più modo. Questi sono qui casi di esempio dove sono straindicati questi tipi di impianti sotto periostei basali. Qua vedete un altro caso emimandibola completamente atrofica. I denti davanti erano ancora buoni ma qua dietro non c'era più osso. Non essendoci più osso come vedi questo è il nervo mandibolare dove passava. Non c'era più modo di mettere neanche impianti corti in questa zona posteriore. Abbiamo dovuto qua utilizzare un impianto basale sotto periosteo. Andiamo avanti ti faccio vedere un altro caso qua di macella superiore. Anche questo con viti che bloccano l'impianto sul palato e una ampia distribuzione poi dei bracci dell'impianto sullo zigomo. Un altro caso ancora. Mi sta mancando la voce. Sono tanti i casi che vi sto mostrando. Questa è la particolarità che abbiamo creato un'impianta griglia qua nella parte anteriore che veniva unito poi posteriormente anche qua con impianti ptericoidei. Qua nelle zone dove ti ho disegnato sul modello le zone di inserzione degli impianti ptericoidei. Questi impianti ptericoidei si sarebbero poi uniti con la barra all'impianto nella parte anteriore e avremo poi fissato anche nella parte anteriore con un altro impianto convenzionale in questa zona nel canale naso palatino l'impianto basale. Un altro caso di impianti laterali in ramo mandibolare ti faccio vedere un altro caso andiamo verso la fine ti faccio vedere un altro caso qui di impianti sotto periostei sul ramo mandibolare. Sono tantissimi i pazienti che hanno difetti della cresta ossea a livello della mandibola. In passato il dottor Malò a Lisbona faceva l'allonfor la tecnica allonfor dove metteva quattro impianti qua nella parte anteriore e poi dietro metteva i denti lunghi senza impianti. Questi flettevano o si rompeva il dente dietro. Capita spesso di vedere pazienti che hanno fatto questo intervento da due soldi senza mettere i sostegni dietro che rompono i denti o peggio perdono l'osso attorno agli impianti che sono sotto tensioni ogni volta che si mastica. Questa è la maniera più moderna di risolvere casi come questi andando a fare degli impianti sotto periostali nella parte posteriore che reggono i carichi masticatori proprio là dove non c'è più osso a livello dei nervi mandibolari. Costa un po' di più ma ti costerà di più non farlo ovvero buttare i soldi. Questo è un altro caso di impianti sotto periostali nella parte superiore. Questo è come è fatto un impianto sotto periostale. Tolgo il modello come vedi un unico blocco in titanio che viene stampato con le stampanti di metallo e viene poi avvitato sopra il massiccio del macellare o in mandibola nel ramo mandibolare. Quello che volevo dirti con questo video è fatti mostrare casi risolti insieme al tuo chirurgo l'ATAC e soprattutto orientati verso equip che fanno gli impianti basali sotto periostei avvitati con le vite da osteosintesi e soprattutto che presentino nel suo costrutto questi impianti nel loro costrutto i multi unit abatment che sono le parti dove verranno poi avvitati i denti. Se ti propongono gli impianti sotto periostali senza queste parti qua di avvitamento ma con dei pilastri lunghi che escono dalle gengive e se vedi questo nelle loro foto dei loro casi risolti scappa perché vogliono metterti i denti incollati poi sopra l'impianto sotto periostale. Non buttare 30 40 mila euro cerca piuttosto di spendere qualcosina di simile o di meno anche in più dipende non è il costo che fa la qualità dell'intervento ma se i denti sono avvitati e se i colleghi poi che lavorano su quel caso hanno un ottimo laboratorio per poter risolvere il caso.